L'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Ugolini di Caltanissetta ha festeggiato sabato per disposizione della Presidenza Nazionale i 50 anni della Fondazione. Infatti la Presidenza Nazionale forgia di una medaglia di bronzo ogni associazione che compie il 50esimo anno di Fondazione, quella di argento al centesimo e la medaglia d'oro al 150esimo anno. Prima della cerimonia si è svolta la messa presieduta da padre Giuseppe Alessi. Siamo qui riuniti per festeggiare questo evento che diventa storico per la sezione, anche perché tra di noi fortunatamente abbiamo presente il socio Carabinieri Cannizzaro che fu all'epoca uno dei fondatori della sezione. Io sono stato congelato nel 1950, nel 54 sono stato congelato per causa delle malattie. Poi tra 12 persone, dalla Caltanissetta, abbiamo contato l'Associazione Carabinieri in congelo. Allora io avevo 22 anni e avessi detto sempre avanti, sempre avanti, sempre avanti. Fino ad oggi vado per il 91 e sono qua a festeggiare il 50esimo all'alba dei carabinieri. Grazie a tutti.